Sì, ammettilo, quante volte ti sei svegliato nel cuore della notte pensando chi è veramente Leonardo Ortolani? Un'ossessione che ti perseguita, numero dopo numero, pagina dopo pagina e ora non riesci più a voltare pagina Certo, di lui sai molte cose, nato a Pisa il 14 gennaio del 1967 Cresciuto a Parma, laureato in geologia a pieni voti Ma forse sono altre le cose che vorresti sapere di lui Quando hai iniziato a disegnare? Servivano anni di università per partorire un ratto? La sua serie finirà veramente o vuole solo spaventarti? Quando farà un film a Hollywood? Perché questi capelli? C'è solo una persona che ti può dire tutto sulla vita di Leonardo Ortolani Si tratta di Leonardo Ortolani Quindi se vuoi le risposte che cerchi E chiedilo a Leo, no? Non stare qua, col fiato sul collo Io ce lo devo fare, ho d'altro da fare, dai Dai, chiedilo direttamente a lui E chiedilo a Leo